Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi non è venerdì, il video di venerdì ci sarà, ci sarà ragazzi Voglio parlarvi di un progetto che è stato fatto da dei ragazzi Si chiama WeWantYoutuber e praticamente è un progetto che hanno ideato Per mettere in contatto vari youtubers emergenti con pochi iscritti E di conseguenza di farli crescere pubblicando i video che verranno fatti da questi youtubers Compreso me, in una pagina facebook e dando un voto a questi video Se volete aderire a questo progetto è davvero molto semplice Basta solo pubblicare un video dove spiegate, come sto facendo io in questo caso, il progetto E questo video sarà più che altro per far conoscere il progetto ad altre persone E pubblicare i due canali youtube che vi lascerò nell'info box, qua sotto in descrizione Più il sito internet che spiega poi come funziona e tutte le altre informazioni, contatti e cose del genere Io ho voluto aderire a questo progetto perché mi sembra una cosa molto 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 valida Ho parlato con un ragazzo che mi ha spiegato un po' come funziona E mi sembra una cosa che vale la pena veramente fare Quindi vi consiglio a tutti voi di andare ad approfondire questa cosa Perché credo che per noi youtubers emergenti sia una cosa molto molto valida E niente ragazzi, allora come vi ho detto noi ci vediamo come sempre il venerdì Con un nuovo video e ciao a tutti